Domani mattina per Sissolotto Comunale di Battipaglia, la consulta comunale per i problemi dei disabiti insieme a Confcommercio, Confesercenti e le altre associazioni di categoria che hanno aderito al progetto, premieranno i vincitori del concorso di idee per la campagna di sensibilizzazione all'abbattimento delle barriere nei locali pubblici. Saranno presenti i dirigenti scolastici e le classi partecipanti. Oltre alla sindaca Cecilia Francese, parteciperanno anche esponenti della Giunta e consiglieri comunali. Grazie per la visione!